bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo io sono xyuder allora ragazzi quando mi arriva un pacchettino dall'estero in tutte le parti del mondo che c'ha dentro qualcosa di vintage di retro io lo faccio insieme a voi perché magari gli piace ragazzi oggi è arrivato un pacchettino dall'inghilterra che la nostra gentile apritrice di pacchetti ora si preoccuperà di aprire e appunto ho una mezza idea di quello che sia è sicuramente un titolo per mega drive voglio pensare che sia un titolone ma non lo so non lo so non lo so intanto me ne approfitto per farvi una domanda ragazzi commentate qua sotto se vi piacciono oppure no le live vintage la domenica su twitch e ma fai vedere che apri la faccia da pirma nel senso gioco della madonna cosa ne sappia ho comprato tanta roba io non cos'è ma come siamo bloccati con la tangenzia fai vedere che apri che cavo ho fatto a solo tre avevo capito quello solo mettiamo direttamente nel cestino il su tre non è uno it's good ma che bava che roba assomini rovina abbiamo perso i soldi figa rivederci il nome un sexy baby arse perché tu fai anche così un po di asma ha detto io non è asma non è asmerd 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 andiamo vi faccio vedere ero convinto fosse un'altra cosa invece ho capito so che cosa sono numero uno qua qua scarta qua scarta qua flashback signori flashback guardate la faccia del aspetta ad aprire della dolphin delphine della us gold flashback ragazzi innanzitutto lo apriamo meraviglioso completo di libretto e di cartuccia andiamo a leggere cosa dice dietro la cartuccia innanzitutto è del 1993 allora anno 2142 atterrati su uno strano pianeta alieno con la memoria cancellata artificialmente dovete ritrovare la rotta verso la terra per bloccare gli eserciti di mutanti invasori flashback l'estrema prova di sopravvivenza finalmente un gioco di piattaforme diverso dal solito flashback senza dubbio il miglior gioco di delphine non vi preoccupate perché troverete sulla mia pagina instagram gli screenshot di questo gioco tra una mezz'oretta numero 2 questo è un pezzone signori questo l'ho pagato questo qua ho sganciato il però è molto figo meritava meritava lo lasci in inghilterra lo porti a casa cos'è thunder force 4 mi leggi anche romano signori per tutti quelli che hanno visto l'ultima live dove abbiamo giocato a fire shark thunder force 4 è il quarto capitolo di una collana di sparatutto spaziali diciamo che è anche abbastanza richiesto in questo momento nell'ambito collezionistico per mega drive andiamo a leggere anche qua un paio di informazioni innanzitutto è del 1990 non leggere 92 perfetto leggiamo cosa dice l'enorme computer che si credeva fosse stato distrutto dal team thunder force era solo stato danneggiato la federazione ha deciso di inviare un'astronave a distruggere questa minaccia una volta per tutte quello che manca è il solo miglior pilota della galassia ed ecco alcuni screenshot ragazzi di quello che è thunder force 4 come vedete spara tutto veramente frenetico che sono molto molto curioso di giocare con voi domenica prossima e l'ultimo l'ultimo o di asmo o di asmo lo fa lo fa questo lei dice è bello cos'è chak rock 2 sa chi chak rock si e poi chak rock 2 è il continuo appunto come ci ha suggerito la pami di un altro titolo che è appunto chak rock ambientato ovviamente ambientato questo è suo figlio ragazzi ambientato nella preistoria un gioco veramente molto divertente molto simpatico andiamo a vedere di che anno è chak rock 2 è del 1993 e la trama dice a 18 mesi dalla vittoria su gary gritter chak rock è il proprietario della chak motors una fabbrica di grande successo ed è diventato papà brick jagger il suo terribile nemico ha rapito chak rock che rischia di essere tolto definitivamente dalla circolazione se qualcuno non lo salverà improvvisamente si sente un forte rumore è chak junior che è riuscito ad uscire dal box go 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 gaga torno subito io non signori un bellissimo tris di titoli che vanno su mega drive vi ringraziamo per avere guardato il nostro video se vi piace spolliciate o raga il like mi raccomando e domeniche vintage mi raccomando alla prossima ciao grazie